eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video di aggiornamento su call of duty black ops 3 avete capito bene oggi parleremo nuovamente di questo presunto dlc 5 ma soprattutto di una nuova arma che è stata trovata all'interno della mappa dei resendraghi andiamo come sempre a piccoli passi prima di iniziare cerchiamo di raggiungere almeno i 300 mi piace per il prossimo video di aggiornamento sul mondo di call of duty come sapete alcuni giorni fa è arrivato all'aggiornamento 1.21 per call of duty black ops 3 che ha introdotto le nuove armi aggiornamenti fx a sicurezza e ovviamente al multiplayer in generale trovate tutti i dettagli e i gameplay delle nuove armi qui sul mio canale youtube ma questo aggiornamento è stato molto importante perché a quanto pare ha sbloccato un'arma che non si capisce se sarà introdotta quindi se sarà reale oppure un glitch all'interno della modalità zombies di call of duty black ops 3 vi ricordate l'arma che era possibile utilizzare all'interno della campagna quindi questa sorta tipo di lancia missili una sorta di proprio lancia missili della campagna bene è stato trovato all'interno della cassa quindi della mystery box nel multiplayer di call of duty black ops 3 la cosa interessante è che questo launcher quindi quest'arma questo lancia missili è stato trovato soltanto nella mappa dei resendraghi quindi sarebbe da capire se è un glitch ma penso proprio di no ma è proprio l'indizio di una nuova arma di questa nuova arma che abbiamo potuto utilizzare all'interno della campagna finalmente sbarcare all'interno della modalità zombies e non oso immaginare che danni possa fare quanti zombies possa uccidere quindi tutto questo porta a pensare che ci sia un supporto da parte della trailer anche nella modalità zombies e non soltanto multiplayer come abbiamo visto e si apre nuovamente l'interrogativo se arriverà o no un dlc5 fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto sarebbe utilizzato quest'arma all'interno della campagna come la vedreste appunto in azione nella modalità zombies del titolo della treyarch e noi ci vediamo con tanti nuovi video video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale